spesso ho ascoltato storie di questo tipo non mi ammalo mai ogni volta che vado in vacanza mi viene la febbre ogni volta che vado in vacanza mi ammalo come mai è una pura casualità o possiamo provare a prestare attenzione e porgere l'orecchio a questo fenomeno abbastanza diffuso e tentare di capire cosa vi sia dietro ecco spesso ciò ci parla di persone molto affaticate e che non sono solite come dire concedersi un ascolto attento un ascolto importante direi anche rispettoso e ciò è stato in qualche modo compreso dal corpo ma anche dalla loro psiche che ad un certo punto sa diciamo così perché custodisce un sapere sa che l'unico frangente in cui questi si concedono la possibilità di fermarsi è quella delle festività delle ferie e allora lì il corpo diventa un fiorire di sintomi un teatro e come dire chiede quell'ascolto che fino a quel momento non gli si è dato il fatto di essersi trascurati ha poi questo prezzo da pagare e come se ci sia un sapere inconscio che alberga dentro di noi per cui il soggetto sa che tanto non si sarebbe concesso la possibilità di fermarsi di ascoltarsi di curarsi di guarirsi e quindi nella misura in cui poi si ferma il motore si spegne la macchina lì sì che questa denuncia non senza interessi tutto quello che fino a quel momento si è trascurato tutto quello che fino a quel momento non ha avuto la giusta importanza nell'economia psichica del soggetto in questione questo significa che se noi non ci ascoltiamo prima o poi i conti dobbiamo pagarli